eh? ha evaso il fisco per un milione di euro ha pagato le tasse per un milione di euro come è successo a Stepney? era la stessa roba poi alla fine non si è risolta un milione di euro mi cavo hanno pochi soldi qui ma perchè? un milione di euro vuol dire che il minimo ne ha due si ma in tutti i cinque anni però c'è tutto il tempo in tutti gli anni che ha fatto le cose che cacchio è? perchè lì? no, ma c'è la mia ma abbiamo la corona abbiamo ieri c'è il mio caro da castello si è tutto portato da tutti i cittadini perchè per cui adesso sono sistema di tutte due da conoscere a fare un po' di sede un po' di sede se volete tutti i suoi risciuti in marasino quindi ci sono un po' di sede si stanno bene tutte le due fratelli e quindi Dico una cosa ciascuno hanno fatto per dire un l'ho fatto quello che l'ho fatto con l'altro ma cosa è successo perché mi è arrivata una roba nuova E' arrivata una roba nuova Ma è già pronta la saison nuova? Ma è tipo c'è il suo è stato il fratello di Pozo e lo vero unione ma o questo è lui, cioè giochiamo in me Ma è devo captare e fanno tu Ho giusto il game, ma non l'happonato Troppo brava che sono taccano e ti sto mettendo a posto l'albero C'è Natale Ma cos'è che devo fare? Capitare? Sì, no Sì, ma scusa, incarichi Settimanali Ottieni scudi? C'è Paolo che c'ho i disegni Ma eeeh Ma che non successe niente? Ma in questi giorni non successe niente robe, hai tutto quelle robe lì, eh? Comunque Ma lo sfidate, cosa cavolo devo fare? Cosa devi fare lì, eh? Ma di cosa? Ma ci sono delle stelle Cosa che devo fare? C'è delle stelle? Non ho capito Che cazzo è? Ah, ok Roppisci davversario mentre sei a bordo Allora, esegui un flip? Sì, beh, io guarda Quello fatturo io E come fatturi bene però Ma che cazzo, dove sono? fermi Vado a passare Sì, secondo te Ma che cazzo è? Oh, ma non ho capito cosa devo fare Ma dai sei per entrare Ogni volta C'è di futuro io All'anno? Guarda Pensacolo che sei fatto A Lurd Ma è meglio Ma ha chiuso ma è chiuso ma cos'è chiuso lì? l'urda ha chiuso ha chiuso ha detto che per te non ce n'è vado volia! l'ho capito ma perchè ha detto che se arriva Dem è chiuso vabbè ma quello che mi sembra non ce n'è sono lì, è pozzesco! a me non mi fanno neanche arrivare perchè hanno detto no 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 ma che ve lo siete? oh io ho aperto il podo vieni come cosa viene in cartoli come si sta dicendo lì no lui ha detto che andava lurdo e come ti lurdo bene no come? tecna non sai cos'è lurdo ma mi piaceva no? ma dai ma non sai neanche schiaff e ti lurdo tu dai come fai non saperlo cos'è? ma dai no dai no 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 è un lurdo tecna è un lurdo tecna è un lurdo eh cos'è? lurdo? e dove ci sono? e dove ci sono? e dove ci sono i miracoli? i miracoli di lurdo i miracoli? oi che vogliono sparare dai mi ziovani miracoli uintan no 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 ci sono cecchino che fai e anche se mi rai il polizzo e gli fai che fai beh se niente giù su google lurdo è da poco guapa ma caccia avevo già aperto ste merda non me l'ha neanche detto che giù ce n'è merda dai grazie schifo io non ho aperto niente avete detto c'è l'ha fatto schifo no non sono stato io non ti pompa qua intanto va bene c'è una chiave qua eh vai dammi la chiave c'è una chiave va bene va bene ok una per la prossima quindi io questo eh io me ne vado ciao andiamo? non c'è un cazzo chi ha? oh raga io vado eh anch'io vado ne vado anch'io però non c'è che continua a respirare sul microfono Dio ah sono io scusa scusa aspetta che ho il staff si ma ah alla fine del mondo eh eh no ah non c'è non c'ho pensato oh madonna rompivalle a due settimane non giocato sai non devi non puoi anche respirare non puoi anche respirare non puoi anche respirare ma io sono un po' ma io sono da 3save appunto ma ma che c'è? ci siamo io lì a qua almeno ci sono io un gazzio quello dove andrò c'è quello che dice lui che fa queste ragazze chi è che? ma ce l'hai le curete no però vabbè ma io c'è solo le splash c'è solo le tiro guarda che c'è la cosa qua ne posso prendere no ma deve andare avanti però perchè sto arrivando da 6 sono morti ci mi servivano assai tu appena c'è un albero però può spasare non c'è io ma non c'è io ma quindi allora venite corri aspetti non ci aspetti cazzo ma va bene io ho due anni dove sei? che non c'è più tempo corre cazzo beh ma siamo qua eh ma cos'è che devi fare le stelle leandro? non lo so non c'è cobbene non so cosa non so quali le stelle che io do ancora guardare io do ancora guardare le persone le cose nuove ma le stelle non me ne non mi ricordo cos'è che è ma tu dici ah le stelle ah ho capito si sono eh si la missione è quella del paradiso la mi incarichi cioè la missione è il paradiso si se tu vai in carica c'è sezione paradiso oh mi mancano 3 personaggi come 3 personaggi non li hai rifatti tutti ah eccoli qua ok dopo lo devo fare quelle eh i personaggi non so dove stare però non ti metti 3 personaggi aiutami 3 vediamo si ah uno lo so qual dov'è eh ma dov'è la gente eh l'altri se mi ricordo eccoli 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 come eccoli c'è a 105 io ho fatto a quella ma dov'è ma dov'è eh sono andato a mettere la macchina verso di là eccoli 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 oh io ma sei tipo minchia sono fermati eh eh oh eh fatti adesso sto pushandoli eh si pushandoli da sopra devi lasciare il tempo però devi lasciare il tempo però guarda però deveci aspettare guardami guardami non stanno scappando via eh guardami non ci dice eh ma no se li beccò si ahhh l'ho bacciato ma non prendere il battimento cosa è grazie vi hai fatto 100 no ma tu non non sulla zip l'ho cerchinato a casa l'ho colpito uno cazzo dove stanno ma che cazzo ne so non so neanche dove eccoli no avevo questo qua devo forse da canale non dico gli altri si viene qua ma dove siete ok quello ho fatto uuuu battuta eh te lo dica oh sono scarsissimi questi però no sta scappando addio coglione ahhh se vabbè ti ci grazie tanta roba c'è no vera ma si le cecchinate ho tirato le hanno ferri però si non ho visto la mia cecchinata porca miseria no chi è? eh vedi ti esiste e ti sparo ne ma dove stanno? ma dov'è? da sopra? ma che cazzo fa? dai ma cara come gioco bene come gioco bene come gioco bene come gioco bene uuuu basta ancora ma non c'è grandissimi dai dai mongolfieva mi sa aspetta eh da chi è? ahah 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 che campione è? ma gli è scemo però che grande giocattone ragazzi che grande giocattone ma io dovevo andare a visitarla sta parte della ecco sono lì eh sono lì eh ma io dovevo andare a visitarla ma io non c'è una passata la partita perché ormai si ma non mi dico ma guard bloccangli spazziti ma欸 no dai dai stai sp 좋은 spazzato i dirci hoomnato ed è puoi scappare i dirci i dirci uuu jin cf questa vita ma dei bus papa non diamo la barca raga oh ma c'è la barca sembra di tutti insieme pazzesco ma tu l'altra volta? io prendo il regano qua oggi gli diranno ci sembro un fire c'è qualcuno qua cazzo di ci scemo lì ma ci sono venuti anche voi da me per te un po' di giocco un'alberto da una volta tutta la propria scala maria di coa ma dove vado anche io ma va poco con le dei aiutami non è dentro di me ma dove lì minchia ormai ma non ce l'ha animato possono dire da mare mi fai andare non è safe cazzo gente di ero ma quello è un bot quello e quello si però guarda come si gira no cazzo di ero non me il calcio non lo soglia a 1 ho preso però non lo toglie ho fatto a parlare che cazzo sta succedendo io vado raga mi dispiace ma io non resto qua non è finito nooo attenta per le carte si non si è aperta è bello che non lo legge ah ma stanno lì eh no no mi spavano mi spavano stanno curando merda vado che decido io ho fatto bravo adesso uccidono quei due eh ma lo cura perchè c'è uno lì proprio no ma dove è andato minchia è andato dietro alla cosa ah non si vede pure insomma dovevo andare avanti anche però come è dietro alla roccia ma sei sicuro oh dove c'è dove dia di quello che è culo però che l'hanno salvato eh ma no tu sei sicuro di dia comunque che culo di merda eh 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 è andato avanti bella fresca dai bella bella da ah bella fresca c'è gente qua però eh nessuno dia ma stanno ma stanno qui eh hai avuto la colpi raga sono andata a volte c'è uno qua però via oh merda dia oh merda oh merda dobbiamo venire avanti prima crisio ma scusa non mi uccide io non mi uccide l'occhio però dici grazie dia eh ora 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 ma scamo con lì la sull'erba andiamo la sull'erba raga io sparo lì è qua lì è aiutami dove è qua sull'erba usciò proprio e che i miei contemporanei ma che cavolo ti uccidea vieni qua sull'erba che c'è da sotto merda no stanno volando dietro di noi oh stiamo usciando eh scappali andro scappa ma quello proprio dietro oh scappa è un coglione solo eh no due 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 sempre qua oh io l'ho pigliato ah l'ho preso bene minchia sta scappando dentro qua ma sono in due ha cambiato macchina ha cambiato maledetto ma io ho scassata la macchina mi hai fatto doppio tranquino l'altro ah 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 volevo non rianimare i coglioni no 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 aiutami ma lo sei scemo però te lo rianimare eh non l'ho preso ancora una volta che devo fare ah ah ma l'ho non giusto me ma l'ho non giusto me madoo che pat oh adesso che ti spara eh beh ciao michael grazie dici ma l'hai ucciso quello ma l'ho spara no oh io ma ne ho una sola ma l'ho ma l'ho ma chi è ma l'ho ragazzo ma l'ho ragazzo ah a me c'era una colpia stella la bomba è stata finita manca ce l'ho fatto ah infatti è finita oh c'è il colpia stella ma oh c'è il colpia stella oh c'è il colpia stella oh ah vedi che c'è qualcuno ah c'è il colpia stella è un bot mi manca l'ho fatto per uccisione e uno uccisione è stato eh eh ma dove stanno che cavolo sto andando state qua ma lo fai stai per buttare indietro eh un po' la cazzo di cose ma vada guarda dove sono usciti ma che ultimo sono in tre non sono gli ultimi ne mancano tre ma che se non mette che sono a botte perché quella quella non dice sì madoo 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 ma che l'ho lasciato ci sono botte sono caduto giù non dovevo cadere giù ma infine sono fortissimi via sono fortuto è morto chi è? dove è l'altro? eh l'altro sta arrivando è qua l'altro muore in safe no non è lì eh ho fatto gg grazie è lì è lì è lì